L'appuntamento da segnare sul calendario è per il 9 aprile 2021, quando Montebelluna ospiterà gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che parteciperanno alla dodicesima edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento. Il comune trevigiano ospiterà le semifinali per la macro area del nord. È un'Olimpiade e vedrà coinvolti le scuole del territorio e tantissimi ragazzi, si parla di 3.000 ragazzi in una giornata a Montebelluna. Il concorso nella prima fase vedrà in sfida squadre dello stesso istituto impegnate nel risolvere quesiti di musica, informatica, cultura generale, sport. Da questa prova scaturirà una graduatoria per arrivare allo step successivo, quello della semifinale, ospitata appunto a Montebelluna. I ragazzi saranno impegnati in diverse prove, alla fine da ogni macro area territoriale usciranno le 50 squadre che dal 13 a 16 maggio affronteranno la finale. A prescindere dalla vittoria è uno strumento di crescita che va oltre quella che è la scuola all'interno dell'edificio scolastico in sé. Permette di fare esperienze sia di conoscenza che di praticità. Quando al comune di Montebelluna è arrivata la proposta di ospitare le semifinali, sindaco e giunta non hanno avuto dubbi nell'accettare. È importante che anche i giovani di Montebelluna si possano confrontare con i loro colleghi provenienti dal resto della penisola. Si cresce attraverso il confronto.